Dottoressa Irene Lamanna, Presidente dell'Associazione Taranto Turismo, siamo nel periodo così fine luglio, ci avviamo ad agosto, un primo bilancio di questa stagione turistica? Beh, personalmente mi ritengo soddisfatta perché comunque abbiamo scelto ormai da tanti anni, da 15 anni di lavorare soprattutto con un'offerta straniera che sta riprendendo dopo gli ultimi due anni. Indubbiamente però una povertà territoriale unica perché non c'è offerta turistica territoriale e quindi marketing territoriale per questi stranieri che giungono un po' da tutto il mondo, dal Beggio, dalla Repubblica Ceca, dalla Francia, dalla Germania, dall'Inghilterra. Abbiamo veramente dei turisti importanti, dalla Russia. Diciamo che se magari il territorio fosse organizzato con attrazioni turistiche estive probabilmente potremmo avere un ascendente in più rispetto ad altre città, ad altre province, anche perché il mare non lo disdegnano. C'è anche la problematica del deficit infrastrutturale, dei collegamenti. Quello è un grave danno che sicuramente andrà ad incrementarsi proprio con quest'azione politico-amministrativa perché sicuramente un vice sindaco baresi o comunque degli assessori baresi gestiti da un presidente della regione Puglia che ad oggi non ha fatto nulla per lanciare il nostro aeroporto di Grottaglie che potrebbe essere al contrario di quello di Bari e di quello di Brindisi un aeroporto internazionale e chiaramente rimarremo fermi da questo punto di vista. Per non parlare poi della stazione, dei treni, degli autobus, ormai siamo molto indietro. Fanalino di coda. Ma il fanalino spento. Fanalino di coda. Fanalino di coda. Fanalino di coda. Grazie a tutti.